Chi sei? Che cosa vuoi? Ho conosciuto una ragazza. Ci hai scoperto? Ti presento a mia madre. La prossima volta che vai a Mignotte, nasconditi meglio. Non ho niente a che vedere con l'amore. Una rivarenza a questa magnifica compagnia. Tu non sei l'amore. Perché a te piace la normalità. Tutto finisce. E di quello che non finisce, prima o poi ci si estrae. Grazie.